Il Paradisi delle Signore Nove, ipotesi prossime trame, Maria svela di essere in dolce attesa. Le nuove puntate dei Paradisi delle Signore Nove previste da settembre in poi non è escluso che possano essere caratterizzate anche dall'arrivo di un bebè. Maria e Matteo, al momento, sono una delle coppie più affiatate e stabili nel cast della soap opera e proprio la giovane Puglisi potrebbe rivelare di essere in dolce attesa di un figlio. Si tratta per ora solo di un'ipotesi, ma indubbiamente da un lato renderebbe felici i due diretti interessati e dall'altro potrebbe spingerli ad affrettare i tempi per la celebrazione del matrimonio. Maria era uscita allo scoperto con Matteo nel finale dell'ottava serie nell'ottava stagione della soap che si è conclusa a maggio, Maria aveva trovato il coraggio per confessare la verità sui propri sentimenti. Dopo aver corso il rischio di restare ingabbiata nella relazione con Vito, amato da suo padre che lo considerava una sorta di fidanzato perfetto e ideale, la stilista del grande magazzino milanese ha deciso di riprendere in mano le redini della sua vita. La storia d'amore con Matteo è così decollata e i due hanno scelto di lasciare insieme Milano per trasferirsi a Parigi, dove la donna avrebbe intrapreso una nuova esperienza lavorativa al fianco dello stilista di fama internazionale de Foix. Maria torna e svela di essere incinta, ipotesi trame il paradisi delle signore nove nella nona stagione della soap, al momento, è previsto il rientro a Milano di Matteo Portelli, non si esclude che l'ex contabile del grande magazzino possa muoversi tra l'Italia e la Francia per questioni di lavoro. Chiara Russo, che interpreta Maria, invece, non è ancora rientrata sul set, fino a pochi giorni fa l'attrice era impegnata sul set di Mina Settembre 3, di cui proprio ieri sera sono terminate le riprese, come svelato dalla protagonista Serena Rossi in un post social. Non è da escludere che a breve anche Chiara Russo possa tornare a vestire i panni di Maria nella soap opera del pomeriggio di Rai 1 e non è escluso che Maria possa rientrare in Italia e svelare di essere in dolce attesa. Un annuncio che renderebbe felicissimi Maria e Matteo, i quali però si ritroverebbero anche a dover affrettare la data delle nozze per creare uno scandalo. Matteo non si era mai arreso sono in tanti tra i fan della soap opera che speriano in un lieto fine per questa giovane coppia che ha appassionato il pubblico con il proprio tormentato amore. Matteo nel corso della passata stagione non ha mai mollato la presa, consapevole del forte sentimento che nutriva nei confronti della stilista Maria Puglisi, ha cercato in tutti i modi di conquistarla fino a rendersi conto che anche da parte di lei vi era un forte sentimento.